Il concetto che abbiamo dell'Europa passa anche attraverso le parole che utilizziamo. E così gli studenti del quarto anno di quattro istituti superiori della città metropolitana, Giulio Natta di Rivoli, Federico Albert di Lanzo, Galileo Galilei di Avigliana, Ettore Majorana di Grugliasco, hanno lavorato un progetto, sostenuto dal Comitato Resistenza Colle dell'IS con il Comitato Resistenza del Consiglio regionale. I ragazzi hanno ideato, realizzato e presentato quattro video sulle parole legate ai temi dell'integrazione europea. I ragazzi hanno lavorato in proprio dopo aver ascoltato i laboratori del professor Vercelli e quindi noi del Comitato pensiamo che questo format possa essere quello giusto e quello da portare avanti sempre come iniziativa col Comitato regionale. È piaciuto anche il gioco informatico sulle emozioni e quindi siamo soddisfatti di questa mattina.